leggiamo da Matteo capitolo 11 i primi 11 versi quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai dodici discepoli Gesù partì di là per insegnare e predicare nelle loro città Giovanni avendo udito parlare delle opere del Cristo nella prigione mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro Gesù rispondendo disse loro andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete i ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati e i sordi odono i morti risuscitano e l'Evangelo è annunciato ai poveri beato colui che non si sarà scandalizzato di me mentre essi se ne andavano Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla che andaste a vedere nel deserto una canna di menata dal vento ma che andaste a vedere un uomo avvolto in morbidi vesti ecco quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re ma perché andaste per vedere un profeta sì vi dico è più che un profeta egli è colui del quale è scritto ecco io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via davanti a te in verità io vi dico che fra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista però il minimo del regno dei cieli è maggiore di lui cerchiamo di capire in che contesto questa vicenda avviene voi sapete che Giovanni il Battista era un uomo unto dallo spirito di dio sin da prima della sua nascita sin dal grembo materno beh il suo ministerio era veramente il più importante tra quelli che i profeti esercitarono perché ma perché tutti i profeti profetizzarono delle circostanze del tempo al popolo parlando della necessità dell'avvenimento parlando delle opere grandi di dio e della persona di dio ma tutti quanti lo fecero in vista di cristo poiché la legge e i profeti si compiono perfettamente in cristo gesù ma Giovanni il Battista era colui che dio aveva mandato davanti al suo unto davanti a cristo e di lui fu profetizzato che sarebbe appunto nato per annunciare la venuta di cristo per la liberazione dai peccati e ecco quindi Giovanni Battista è colui che fa da apripista alla all'opera di cristo e poiché l'opera di cristo è centrale fondamentale tutto converge verso la croce verso l'opera di cristo e gli ha ragione è considerato il più grande tra i profeti perché il valore del suo ministerio fu veramente straordinario straordinario è anche il fatto che quest'uomo visse una consacrazione straordinaria e gli visse solamente per il compito che gli era stato affidato e lo fece con una devozione con una dedizione con una abnegazione cioè con la negazione di se stesso che è qualcosa di straordinario meraviglioso e di lui non viene detto come ad esempio fu detto di Elia o di Eliseo che manifestarono la potenza in segni miracoli e prodigi di Giovanni Battista questo non viene detto ma la sua predicazione doveva essere veramente un martello che spezza il sasso perché la sua predicazione piegava i cuori compungeva di peccato spingeva migliaia di persone a ravvedersi toccate dalla sua parola e spinte a cercare il ravvedimento spinte a cercare Cristo e questa è l'opera appunto che Giovanni Battista doveva compiere preparare dinanzi a Cristo la via affinché quando Cristo fosse giunto egli avrebbe già avuto grandi folle pronte ad accorrere a lui per trovare in lui quella redenzione e quel perdono di cui sentivano il bisogno a causa della predicazione di Giovanni Battista quello che ci viene detto di Giovanni Battista è che l'unzione in lui operava efficacemente e non si piegava dinanzi a niente una fedeltà assoluta dicevo la sua consacrazione è manifesta dal fatto che vestiva con pelli animali viveva nel deserto si nutriva di locuste miele selvatico era una vita che non cercava agi ma cercava consacrazione cercava contatto cercava comunione e quale contatto quale comunione egli aveva con il Signore riconobbe subito l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo non solo riconobbe in Gesù il Cristo ma era pienamente consapevole dell'opera che egli avrebbe compiuto aveva delle rivelazioni profonde e la sua dedizione fu tale da permettere allo spirito di Dio di operare in lui in modo straordinario ma dicevo egli non si piegò dinanzi a nulla predicava ai poveri con grande franchezza ma predicava anche ai ricchi senza timore delle ritorsioni e quando erode si trovò in una condizione di adulterio egli non si trasse indietro dall'annunciare che era un adultero e che doveva ravvedersi anche se sapeva che quell'uomo stolto aveva l'autorità di staccargli la testa dal collo ma egli serviva un re che era molto più grande e che era molto più potente e sapeva che ogni cosa era nel potere non di erode ma di Dio e che ogni cosa si sarebbe svolta non per la volontà di erode ma per la volontà di Dio e se gli avesse dovuto offrire la sua vita in sacrificio al suo ministerio egli era pronto e infatti così accadde attraverso le sue predicazioni suscitò l'ira di erode che pure lo temeva perché riconosceva la potenza dello spirito e erode lo chiuse in prigione e qui nella prova della difficoltà emerge un aspetto per la prima volta di Giovanni Battista che non avevamo visto mai Giovanni Battista era colui che aveva riconosciuto il Cristo e che aveva detto ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo era lui che lo aveva ditato ricordate era lui che lo aveva accolto dicendo io non sono degno di sciogliere neppure i calzari dei tuoi piedi ma ora sembra attraversare un momento di grande crisi la prova il dolore la sofferenza la prigionia lo portano a fare una domanda che ci disorienta manda i suoi discepoli da Gesù a porgli una domanda e la domanda è udite udite sei tu colui che deve venire o ne aspetteremo un altro se io avessi dovuto accertarmi ai tempi di Gesù dell'identità di Gesù se egli cioè fosse veramente il Cristo sapete a chi l'avrei chiesto l'avrei chiesto a Giovanni Battista sarei andato da lui e gli avrei detto ma è lui quello che tu ha diti come il Messia è lui quello dinanzi al quale tu stai profetizzando è lui la persona per la quale tu hai consacrato tutta la tua vita per annunciare la sua venuta perché era lui che aveva compiuto questo era lui che lo aveva additato era lui che lo aveva riconosciuto era lui che si era umilmente prostrato dinanzi a lui ritenendosi indegno anche di parlare con lui ed ora ed ora è disorientato ora è confuso ora più che ascoltate come mi esprimo più che il contenuto glorioso che Dio era aveva posto in lui la sua potenza il suo spirito la sua grazia la sua sapienza la sua conoscenza le sue rivelazioni che traboccavano abbondanti come da una fonte in piena ora noi vediamo invece il vaso di terra ne vediamo la sua debolezza notiamo la sua fragilità ed è bello questo sapete non è che sto dicendo è bello sapere che Giovanni Battista ha avuto un momento di debolezza è bello ed è utile per noi però perché impariamo che coloro che sono stati gli strumenti nelle mani di Dio anche i più gloriosi perché adesso vedremo cosa dirà Gesù di lui sono comunque uomini fragili sono vasi di terra e è l'aspetto interessante di questa manifestazione di fragilità io immagino anche il disorientamento dei discepoli di Giovanni che prima avevano visto alcuni dei discepoli che prima erano uniti a Giovanni seguire Gesù Giovanni a ditare Gesù come il Messia e ora sono portatori di una domanda che li avrà anche un po' confusi che dite e quindi vanno lì gli pongono la domanda e la risposta di Gesù è bellissima la risposta di Gesù non è indignata ma come tu adesso dopo tutto quello che io ho fatto in te che il padre ti ha donato dopo quello che io ti ho detto dopo quello che tu hai detto a me poni no assolutamente lo conforta e lo conforta attraverso una risposta che non è sì lo sono perché vedete Gesù non vuole essere colui che da solo presenta le sue referenze fidati di me e basta te lo dico io e basta ma risponde attraverso le opere che egli compie e che secondo la parola di Dio parlano del Messia e quindi gli dice andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete i ciechi recuperano la vista gli zoppi camminano i lebrosi sono purificati i sordi odono i morti resuscitano l'evangelo è predicato ai poveri le mie opere testimoniano di me ricordate questo disse Gesù e c'è questo bel conforto come dire sì non ti preoccupare le cose stanno così e guardate un po' come questo può rivolgersi verso di noi quando nella nostra debolezza i dubbi sorgono quando nella nostra debolezza le nostre fragilità emergono subito il diavolo viene e ci suggerisce nell'orecchio ecco guarda che sei sei qualcosa di indegno sei una cosa che non si può guardare né considerare come fai ad essere così ma adesso come ti presenti davanti la presenza di Dio ma cosa ti aspetti che egli ti dica adesso quale rimprovero rivolgerà a te c'è il conforto Dio non si dimentica che siamo polvere non se lo dimentica e se possiamo continuare a camminare malgrado le nostre debolezze è solo e soltanto per la sua grazia è solo per la sua meravigliosa grazia ed egli ci sostiene egli rialza colui che cade egli è la forza per il debole e la ricchezza per il povero egli è il sostegno per chi vacilla ed è meraviglioso questo viene a noi e con la sua parola ci conforta come fece con i discepoli sulla via de maus ricordate afflitti abbattuti ormai senza speranza avevano volto le spalle a gerusalemme se ne andavano via le nostre speranze sono finite avevamo creduto avevamo sperato ma adesso non c'è più possibilità Dio non si indigna si accosta a loro e di nuovo con la parola li conforta li rialza gli apre gli occhi li riabilita e li riporta verso gerusalemme verso una speranza viva ma dopo aver parlato e confortato il cuore di giovanni battista mentre i discepoli se ne vanno gesù prende la parola e guardate che cosa fa immaginate quando i discepoli di gesù udirono la domanda di giovanni battista quale indignazione ma come come si permette di mettere in dubbio l'autorità e l'identità del nostro maestro ma che gli è preso a giovanni battista ma chi ha perso la testa secondo voi nacquero questi commenti nascerebbero anche in mezzo a noi è vero o no siamo così facili a indignarci sapete che cos'è che mi indigna l'indignazione è una cosa brutta brutta quando ci indigniamo ma per carità ma come si fa noi siamo chiamati alla misericordia la comprensione al sostegno non all'indignazione grazie a dio il signore non si è indignato di noi ma sapendo quello che presto sarebbe sorto affiorato nella mente dei discepoli gesù mentre i discepoli di giovanni se ne vanno prende la parola e gli fate le domande voi che adesso siete indignati voi che state formulando pensieri strani su giovanni battista ma cosa andreste a vedere andreste a vedere nel deserto chi siete andati a vedere un uomo avvolti avvolto in vesti suntuose o forse una canna di menata dal vento no voi andaste a lui perché sapevate che lì c'era un profeta e non semplicemente un profeta ma un profeta del quale era stato profetizzato che egli sarebbe venuto davanti a me per preparare una via e vi dico non solo questo ma egli colui che state giudicando nei vostri cuori è dinanzi ai miei occhi il più grande dei profeti mi commuove molto questo quanto amore quanto affetto quanta stima il signore tributa a quest'uomo nel quale si è compiaciuto malgrado le sue debolezze malgrado le sue fragilità egli ha preso la sua vita con tutte le sue poche forze e la spinta laddove la volontà di dio voleva è caduto ma si è rialzato per la grazia di dio ha avuto momenti di fragilità era un uomo come te e me ma l'ha spinta la sua vita per adempiere il mandato e dio non dimentica tutto quello che noi facciamo per il suo nome non lo dimentica egli dice l'apostolo confondendo quasi le nostre menti ci ha stimati degni di servirlo ed egli ci affida con fiducia l'incarico di servirlo ed egli non disprezza i suoi non disprezza coloro per i quali egli ha dato la sua vita sono suoi, sono figli, sono amati sono custoditi, stimati ed è su di noi che egli ha posto il suo spirito e la sua grazia ed io voglio incoraggiarvi quest'oggi a non dire mai di noi stessi non valgo e non perché c'è qualche valore particolare in noi ma perché siamo stati destinatari della grazia di Dio non posso, non ce la faccio il Signore ti ha chiamato e come l'apostolo Paolo consapevole di questo anche noi possiamo dire io posso ogni cosa in colui che mi fortifica perché so che Dio ha posto lo sguardo su di me e che egli può portare a compimento l'opera che ha cominciato anzi non solo può ma sicuramente la porterà in compimento perché colui che ha cominciato in noi un'opera buona non la lascerà a metà ed ecco nelle parole di Gesù troviamo qualcosa di straordinario ricordate cosa disse il Padre di Gesù nell'occasione del Battesimo e sul Monte della Trasfigurazione ecco il mio diletto figliolo nel quale mi sono compiaciuto ma non vi sembra che Gesù stia dicendo lo stesso di Giovanni come vi permettete sembra dire ai discepoli di pensare questi pensieri di Giovanni non sapete che lui è il più grande dei profeti non sapete la sua fedeltà ma l'avete dimenticato chi siete andati a vedere quale timore reverenziale egli ha prodotto nei cuori di chi ascoltavano le sue predicazioni con quanto zelo con quanta passione malgrado la sua debolezza egli abbia portato a compimento il suo ministerio egli mi ha onorato ed io mi sono compiaciuto in lui come vi permettete solo di pensare questo di colui che ha tracciato dinanzi a me una via spendendo ogni istante della sua vita solo per adempiere la chiamata che il padre gli aveva donato questi è il mio servo nel quale io mi sono compiaciuto certo è un vaso di terra ma quanto compiacimento ha prodotto in me questo vaso di terra e quanto compiacimento possiamo produrre anche noi se solo abbiamo la fede e il coraggio di prendere la nostra vita debole fragile di terra e presentarla dinanzi a Dio e dirgli signore una sola cosa voglio e per una sola cosa voglio vivere e malgrado il mio cuore malvagio e la mia debole volontà voglio vivere per compiacerti donami la grazia malgrado le mie fragilità di correre la corsa che tu hai posta dinanzi a me con quest'unico obiettivo voler raggiungere il tuo compiacimento voler poter giungere un giorno dinanzi a te sapendo che tu ti sei compiaciuto nella mia vita perché questo è il cuore della vittoria di ogni servitore non vivere per compiacere se stessi ma vivere col desiderio di compiacere Dio e poi puoi essere un vaso di terra puoi essere polvere puoi sentirti come diceva l'apostolo Paolo un aborto il minimo tra gli apostoli o indegno di essere chiamato così ma se il tuo desiderio è vivere solo per compiacere Cristo io ti garantisco che malgrado le tue debolezze tu potrai portare gloria e onore e Dio si compiacerà in te oh voglia il Signore trovare in questi numerosi vasi di terra che sono che sono dinanzi a me e anche in questo vaso di terra che vi sta parlando quest'unico desiderio di vivere non per compiacere noi stessi chi trova la sua vita la perde ma chi perderà la propria vita per amore di Cristo allora la troverà fratelli viviamo per compiacere Dio e le nostre debolezze saranno colmati dall'immensità della sua grazia le nostre fragilità saranno vinte dalla sua onnipotenza e dal suo amore che sa colmare di bene i cuori di quanti vivono con un unico scopo Signore compiacerti è nient'altro che questo chiediamo il capo in preghiera